Noi non siamo pezzetti di corpo, noi siamo persone con la P maiuscola che abbiamo avuto degli inciampi nella vita, delle fratture. Fra queste fratture c'è una malattia grave, quindi se noi rimettiamo al centro di tutti i discorsi la persona e non la malattia, diventa tutto più semplice ma diventa anche più facile e mi creda, crollano anche tutte le denunce. La malattia ma anche il rapporto con i medici, gli ostacoli e le difficoltà familiari, questi temi al centro del libro di Lucia Benetti 048, ossia il codice di esenzione della patologia della stessa autrice, paziente oncologica. Il libro è stato presentato all'auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato di Arezzo. È un libro che è nato subito dopo la mia esperienza, il mio incontro, il mio inciampo quasi con il cancro e mi sono messa alla ricerca, andando in giro veramente per l'Italia, di quali fossero le problematiche non solo del paziente ma anche dell'infermiere e del medico, proprio andando ad ascoltare e raccogliere proprio le voci e facendo un'analisi ma non un'analisi di parte. Mi sono tolta tutte le casacche, io avrei potuto fare delle, così, mettere in luce dei punti di vista da psicologa ma non aveva senso e quello che io volevo fare capire, che ho voluto far capire, è stato proprio che cos'è che vogliamo noi pazienti e non utenti, che cosa vuole l'infermiere, che cosa vuole il medico, quale sono le problematiche, che cosa ti trovi davanti nel momento in cui tu entri nella pianeta sanità.